Presidente, parliamo del 27 gennaio, giornata della memoria, cosa si farà? Abbiamo due eventi in programma, uno per quanto riguarda ovviamente il concorso Palatucci, promosso dall'Associazione Nazionale e ovviamente coinvolgerà i ragazzi dell'Ecceo Musicale. Quest'anno diciamo che i ragazzi parteciperanno con un elaborato, quindi una composizione e abbiamo già costituito una commissione che ha valutato gli elaborati che sono arrivati, sarà quindi momento anche per ascoltare questo lavoro. I ragazzi hanno spiegato il perché di quelle composizioni, quindi scendendo con una presentazione, un breve abstract. La commissione ha finito i suoi lavori, quindi ci sarà questa consegna delle borse di studio, ma sarà un momento sicuramente abbastanza molto emozionante. L'altro evento invece lo avremo qui in centrale, quindi faremo un percorso sulla Shua. I ragazzi porteranno poi la fase conclusiva di questo percorso, hanno elaborato anche un opuscolo, c'è anche la mia prefazione, ma è un percorso bello perché quindi non è un evento fino a se stesso, ma quindi si raccolgono un po' i lavori che hanno condotto i ragazzi in questo periodo di avvicinamento e verranno presentati quindi grazie a Lions che ci ha accompagnato in questo progetto. Formare i ragazzi giovani oggi anche su questa giornata della memoria, su quello che si è vissuto, credo sia fondamentale, anche perché sennò saremmo una società molto leggera. Certo, è fondamentale, è fondamentale quindi anche spiegare il perché si studia e da qui nasce proprio la consapevolezza di essere sempre vigili e attenti affinché determinate equilibri non possono ripresentarsi in un futuro, anche prossimo. Quindi essere attenti e vigili anche in forme diverse, perché ci sia il rispetto, ci sia la valorizzazione della diversità e non si possono più anche conservare quel senso di indignazione nel guardare quelle immagini forti e nell'ascoltare quelle testimonianze che ancora oggi riusciamo a registrare. Sono diverse le scuole italiane che sono state accompagnate ad Auschwitz per fare questo percorso così triste? Sì, quello è a mio avviso un atto dovuto perché in sostanza ecco riuscire a credere senza vedere e toccare con mano per me è importante e fondamentale perché comunque ti lascia qualcosa addosso che ti indurrà sicuramente a riflettere, ti indurrà quindi a ripensare ciò che è stato vissuto, ciò che purtroppo noi registriamo ancora oggi che ovviamente deve accompagnarci, come dicevo prima, come guida. Quindi sarà fondamentale ed è un qualcosa che metteremo sicuramente in programma anche con i nostri ragazzi.